Ciao a tutti! Oggi leggiamo insieme tutti i baci del mondo. Prima di passare alla lettura vi invito ad iscrivervi al canale cliccando sul tasto rosso iscriviti qui sotto al video. Bacione d'elefante Bacino di formica Bacio bau bau Bacino naso naso Bacio con solletico Bacio bua Bacetto lupetto Bacio che punge Senza baci Pronto? Bacio Bacio mamma Bacio orzetto Bacio glu 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 Un bacio d'amore Mua Bacio Poi nanna Buonanotte Se queste video letture vi piacciono lasciate un mi piace al video. Grazie Bacio